Pene pesanti tutte tra i 6 e 7 anni e insomma una vera e propria stangata. Sono infatti queste le richieste del PM Giulia Maggiore per i pusher finiti in manette nel corso del Maxi Blizza dello scorso 8 maggio al Parco del Colle del Pionta, l'operazione che consentì alla squadra mobile e agli agenti infiltrati dello SCO di Roma di arrestare una trentina di persone, tutte di origine africana. Si è entrati così ieri nel vivo del processo. Davanti al giudice del Tribunale di Arezzo sono sfilati coloro che hanno optato per il rito abbreviato, procedimento che gli consentirà di evitare la fase dibattimentale e di ricevere lo sconto di un terzo dell'eventuale pena. Il reato contestato è per tutti quello di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Adesso la strategia dei legali della difesa è quella di dimostrare che in ogni caso i loro assistiti erano in possesso di modiche quantità di stupefacenti, per chiedere così misure più lievi. Dunque la battaglia si giocherà tutta sulla distinzione fra primo e quinto comma della legge antidroga. In tutto sono 26 i pusher finiti a processo, 13 di loro hanno scelto la strada del procedimento ordinario, gli altri invece quella del rito abbreviato.